Innanzitutto noi risolleviamo l'economia con una serie di azioni, non abbiamo detto che il Jobs Act crea lavoro, è un cassello. Ah, fermi, fermi, questa cosa... Ma è ovvio, allora... Non abbiamo detto che il Jobs Act crea lavoro. Ma nessuno ha detto che il Jobs Act crea lavoro, neanche Renzi. La motivazione... Allora, noi abbiamo detto che il lavoro è lo sviluppo, lo creiamo con una serie di cose. Io penso che il Jobs Act e soprattutto il contratto a tutte le crescenti non è stato fatto principalmente per aumentare i posti di lavoro, ma può stabilizzare alcuni lavoratori. Allora, grazie per aver detto questa cosa, Mirabelli, perché la seconda volta che lo sento... No, ma anche l'onorevole Scuvera del suo partito, due venerdì fa, ha detto la stessa cosa. Ma l'avevo già detto anche qui, anch'io. Sì, ma è stata assalita da tutti, anche da me, perché tutti quanti abbiamo detto, ah, finalmente hai ammesso una cosa... Io non lo sapevo. Ma non è una piccola cosa. Io ho sempre pensato che il Jobs Act fosse fatto per creare nuovi posti di lavoro. Io ho detto... Invece adesso viene fuori che non è così. Il contratto a tutte le... Per stabilizzare. È per stabilizzare quelli che sono precari. Come tutti gli interventi sul lavoro di questo governo. Per dare stabilità a chi oggi è precario. Ok, è un'altra cosa. È un'altra cosa. Ma è una cosa importante. Certo. Perché vuoi...